segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te perché è vero che putin ha fatto una cosa criminale è vero che io lo considero il principale responsabile di quello che sta accadendo ma è altrettanto vero che questa non è più la guerra dell'ucraina contro la russia scusa questa è una guerra non perché lo dica putin è reale della nato contro contro la russia quindi è già diventato un conflitto di portata mondiale quindi tu dici non indichiamo perché inizia ma come finisce noi crediamo che le ragioni di questa guerra siano tutte morali stanno tutte nella parola libertà quel gasdotto è stato boicottato è stato deciso di boicottarlo prima ancora dell'invasione perché perché noi avevamo la russia che forniva alla germania gran parte del gas di cui aveva bisogno a basso costo ma avevamo creato anche un'infrastruttura che univa l'europa perché nella mia idea d'europa la russia fa parte dell'europa nei discorsi che ho sentito perdonami della meloni della meloni di biden e di quant'altri c'è la ricostruzione di un muro tra noi e la russia e questo è contrario agli interessi dell'europa però ora ci sposteremo alle ragioni che portano giorgia meloni a tenere questa posizione a differenza di silvio berlusconi in qualche misura anche di matteo salvini però è una guerra voluta dagli americani che si scatena perché putin invade quindi o putin c'è caduto putin è alleato degli americani putin c'è caduto che putin ci sia caduto non c'è ombra di dubbio c'è è caduto anche perché evidentemente aveva delle informazioni che lo portavano a pensare che ci sarebbe stato qualcuno che faceva un colpo di stato da quella parte perché putin non può essere così rimbecillito da non sapere che erano già stati armati con missili anticarro capaci di mettere in difficoltà quel tipo di invasione come avvenuta sul piano militare quindi putin è entrato pensando che si ribellavano che in qualche maniera c'era nell'esercito una situazione che non è successo quando tu alzi il livello dello scontro militare e cominci prima noi siamo partiti che dovevamo lascia perdere io sono contro le armi quindi con me non devi parlare di queste cose perché sono contro va bene però diciamo pure che siamo a favore del fatto che gli ucraini si dovevano difendere va bene e li dovevamo aiutare a difendersi così ci hanno spiegato i telegiornali ma dall'aiutarli a difendersi siamo passati alla guerra satellitare siamo passati a missili sempre più efficaci e questa volta nei colloqui se anche non appare dai comunicati ufficiali si è parlato della possibilità di colpire sia la crimea sia direttamente la russia con missili a medio raggio cioè questo è il punto allora noi questo lo vogliamo arriviamo alla domanda politica la meloni i giornalisti italiani che mi danno del putiniano non potete venire sempre a raccontarmi sta storia che inizia ore dell'invaso ok aiutiamo l'invaso diamogli delle come ne usciamo va bene ma se voi fate crescere voi perché se accreditate il fatto che ci sia un escalation che si possano colpire i russi sempre più in profondità e con sempre maggiore forza quello che succederà dopo io non lo so allora giorgia meloni che se anche dovesse perdere putin se anche dovesse perdere putin per me il mondo non sarà migliore se putin sul piano militare perché tu stai sconvolgendo il più grande paese del mondo che finirà in una crisi terrificante che ovviamente si dirigerà verso di noi non creerai stabilità non creerai democrazia a quel punto arrivano i cinesi oppure dentro succede qualcosa oltre al fatto che non la stai creando in ucraina perché anche di quello si dovrebbe parlare meloni va ecco la stai